ciao ragazzi ciao a tutti e a tutti un nuovo video chiacchiericcio come state spero tutti bene e niente allora questo è un video in sottoforma asmr come avevo promesso appunto da ieri e un video così tanto per stare un po assieme e dunque come ve l'accavate voi come ve l'accavate? scusate ho pure i curitori che non so perché ho venuto curito niente allora chiunque mi abbia chiesto cosa aumentò queste sono peli ormonali siccome io sono scura di pelle queste sono peli ormonali niente questo è quanto questo me l'hanno fatto non so chi me l'ha fatto però se sono stati l'estitista non vorrei dire cazzate però è così dico semplicemente che non mi piacciono queste manche bianche ma non ci posso fare niente purtroppo niente stamattina sta facendo brutto tempo anzi è brutto tempo e non lo so sembra che non si riuscita a fare bello oggi fortuna che ieri era bella giornata e sono potuto uscire un po a fare delle belle passeggiatine non vi ho partito con voi perché non perché mi sono dimenticata di registrare il video ma perché stavo pulendo anche a casa tra l'altro fatto anche il video di pulizia della casa e spero che mi sia piaciuto ciao mi era amato troppo messe basse mi piace stato un po bene e quindi nulla si è vero mi devo toccare ma tanto si vede lo stesso questo 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 nero tra l'altro dovrete vedere perché è brutissimo da vedere con questi pill che ho è brutto vedete qui non ne ho perché mi ho fatto la ceretta però qui si e il pinzetto questo sembra che ho la barba quando non è così non è barbara anzi questo sono solo peli io non so come togliere ovviamente non lo so pure potrei farmi la ceretta qui però non so ne parla neanche uso meglio la pinzetta ovviamente ovviamente non me lo faccio io ma me la fa mia nonna cioè mi togli pelo per pelo e così va via la macchia più o meno siamo lì aspettate che mi vedete dietro aspettate che mi vedete dietro no non c'è nessuno che non voglio girarmi voglio vedere che c'è dietro di me e niente io oggi sono braccia scoperta perché ho caldo sinceramente comunque buono giugno tutti quanti buono giugno e niente comunque stavo pensando di fare un tapping non trovo dove ho messo quella benedetta bottiglia non lo so dove ho messo la bottiglia in verità vedete vi porto con me direttamente allora la bottiglia qui l'amica non c'è la bottiglia qui non posso sempre le persone ok 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 e siamo già a 5 minuti di video e non l'amo e io mi sa che vi saluto qua perchè non vuole diventarsi troppo lungo ma neanche troppo corto e noi ci si venga un prossimo nuovo video magari ci sa sera domani va bene? ho dato un tomo gli occhiali senza fare il rumore le occhiali nere come al solito come sticcio un fecchetto non veramente va bene? quieta va bene? va bene? va bene? va bene? va bene? va bene? Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' meglio così, credetemi, perché non posso fare video che poi risultano troppo fastidiosi ad ASDL, quindi ne approfitto di questo silenzio così. Questo silenzio è bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.